Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Buonasera signore e signori, benvenuti a bordo il comandante. Pochi minuti regoleremo per Milano e Linante. Un'ora e 45 il volo. Tempo lungo la notte buono. A Milano il cielo è appazzamento nuvoloso, 25 gradi la temperatura. Vi ringrazio e vi auguro un buon volo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.